Ad inaugurare il mini Tour de Force di tre gare in sette giorni, l'avversario più difficile per la Virtus, il Bari, allenato dall'ex Andrea Camplone. In termini di risultati i galletti non stanno raccogliendo tantissimo, sei punti in altrettante gare sotto la gestione Camplone, ma la squadra possiede grandi qualità. Da canto suo il Lanciano deve evitare di pensare a tutto questo, testa sotto, lavorare e soprattutto raccogliere punti in modo da affrontare con serenità la trasferta di Como martedì sera e poi il nuovo turno al Biondi sabato 27 contro il Brescia. Sulla partita sentiamo Simone Salviato, un ex senza rancori ma che vuole fare bene. Ti dico la verità, io ho passato due anni bellissimi a Bari, diventamente anche dai sei mesi che sono rimasto fuori, perché comunque di natura sono uno che non prende mai le cose negative, cerco di prendere sempre le cose positive. Ho lavorato, ho sempre lavorato, ho fatto bene, ho ricevuto tanti buoni consigli comunque dai miei compagni, anche da allenatore, quindi sinceramente non è che io sono arrabbiato oppure sicuramente voglio cercare di prendermi una rivincita e dimostrare magari a sua età che lasciandomi fuori i sei mesi facevano meglio a farmi rientrare.